Grazie Presidente. Volevo iniziare questo mio intervento in deroga di 45 minuti sul bilancio sottolineando un aspetto. Io ricordo che il Sindaco Marino ha vinto le elezioni e si è freggiato in campagna elettorale del discorso Campidoglio-Casa di Vetro e quant'altro. Volevo iniziare questo intervento con una constatazione. Nonostante il Sindaco Marino in campagna elettorale parlava di trasparenza, di pubblicità delle sedute e quant'altro, ancora una volta i cittadini hanno delle enormi difficoltà ad assistere alle sedute di Assemblea Capitolina. Infatti talvolta accade che ai cittadini è richiesta una sponsorizzazione, cioè se conosci un consigliere Capitolino puoi assistere oppure no. Allora la domanda è se le sedute sono pubbliche, come è detto, come è stabilito, come è sancito dal Tuel, dallo Stato di Roma Capitale, dal regolamento del Consiglio Comunale, perché si richiede questa sponsorizzazione? Io Presidente la invito veramente a tralasciare queste pessime abitudini che si sono ripresentate puntualmente anche con i suoi predecessori, perché i cittadini hanno il diritto di assistere alle sedute di Consiglio a prescindere dal fatto se conoscano un consigliere comunale o meno, anche perché già i consiglieri comunali... è quello che succede adesso, guardi, perché l'accesso è libero, l'accesso è libero, assolutamente sì, solo che spesso voi consiglieri mi chiedete di fare entrare delle persone, perché l'accesso è libero... e assicuro... no, no, gliel'assicuro io... l'assicuro io, ero giù, Presidente, ero giù, mi hanno chiamato i cittadini dicendomi Enrico, guarda che non ci fanno entrare, io infatti sono il primo che odia queste abitudini perché poi sembra che il consigliere comunale debba fare una concessione, quando invece se si tratta di un diritto non ci deve essere nessuna concessione, ma le assicuro che a me mi hanno telefonato numerosi cittadini alle ore 15 e 10, quando la seduta di consiglio era già iniziata, dicendomi Enrico, se non scendi giù tu, non ci fanno entrare, poi ripeto, a questo punto o regolate le comunicazioni al vostro interno... guardi, probabilmente perché c'era una manifestazione, faremo dovuti le verifiche, quindi quando c'è una manifestazione, chiaramente, è più difficile l'accesso al palazzo senatorio... ci mancherebbe, ma io infatti ve l'ho detto col massimo della tranquillità, perché è sempre importante essere costruttivi, quindi dicevo appunto, e anche tra l'altro mi dispiace dirlo, ma non funziona neanche lo streaming delle sedute, quindi è anche un problema importante perché i cittadini che magari vogliono seguirlo da casa, al momento non funzionava lo streaming delle sedute... Anche questo le posso confermare perché ho chiamato la regia, perché le sedute in streaming ci sono sempre... Io mi ero connesso qualche minuto fa e mi dava errore, però ripeto, magari è un problema del mio computer... Sono chiamato dalla regia che segue attentamente lo streaming... Perfetto, ci mancherebbe... Fatte queste tutte premesse di natura, diciamo così, amministrativa, volevo entrare un po' nel fulcro del mio intervento su questo bilancio, cara Presidente, e volevo iniziare da un episodio che mi è accaduto... Mi è accaduto però a togliersi quel cartello perché lei non è che è speciale, tutti i consiglieri si devono presentare in aula e parlare non con cartelli che non sono lei che rispetta molto il regolamento, non sono proprio consentiti dal regolamento... Presidente, la busta di plastica, se questo le sembra un modo per intervenire in aula Giulio Cesare, guardi, io francamente ho dei problemi a comprenderla, il suo atteggiamento, perché c'è un regolamento che va osservato da parte di tutti, se lei vuole continuare con questo atteggiamento e con questo modo di porsi lo faccia, ma è veramente fuori luogo... Presidente, io non sto facendo nessun atteggiamento, io sono vestito con un sacco di plastica, può essere il mio stile, ci mancherebbe, magari è uno stile un po' retro, siamo in un momento un po' va molto in vintage... Non so dove lei ha visto persone che si presentano nelle istituzioni con sacchi di plastica, eh no, io devo far rispettare il regolamento, quello che mi chiedete voi, il regolamento prevede che in aula Giulio Cesare non si arrivi con queste modalità... Presidente, nel regolamento non c'è nessun articolo che si riferisce all'abbigliamento dei consiglieri, quindi Presidente, io sono vestito con un sacco di plastica, se mi ci voglio vestire mi ci vesto, il cartello l'ho tolto, perché come dice lei invece il regolamento non consente di esporre cartelli ed altro, quindi io il cartello l'ho tolto, ma se io mi voglio vestire con un sacco di plastica sarò libero di farlo, ci mancherebbe, certo è uno stile ripeto, non molto simpatico, però se lo faccio c'è un motivo che andrò ad illustrare sì, diciamo che sono vestito meglio di altri consiglieri, ci mancherebbe. O anche Presidente, visto che lei è molto ligia al regolamento, lei si ricorderà che durante la seduta sulla finale, sulla delibera 88, c'erano i consiglieri di maggioranza che andavano in giro con dei post-it attaccati sulla schiena, tipo scherzi da quinta elementare, ecco io penso che quello sia molto più grave che vestirsi con un sacco di plastica in aula, però Presidente io voglio fare questo mio intervento di 45 minuti, se facciamo un dibattito tra me e lei penso che non interessi ai cittadini perché insomma c'è ben altro di cui parlare nel mio intervento e dicevo appunto, dopo lo recupero, dicevo Presidente volevo iniziare da un episodio che mi è accaduto la scorsa settimana, io molto spesso il più possibile mi sposto con i mezzi pubblici e mi è avvenuto veramente un qualcosa di piacevole, dicevo Presidente se non erro, grazie, mercoledì scorso e appunto ho preso l'autobus 81 qui da Piazza Venezia per tornare a casa e con il mio immenso stupore ho notato che pioveva dentro l'autobus, non sto scherzando, ho fatto i video, ho fatto le foto, purtroppo non hanno avuto un grande risalto mediatico, purtroppo il nostro gruppo capitolino non è fortunato come altri gruppi di opposizione che magari hanno una presenza minore in aula ma poi sui media hanno un notevole risalto, noi purtroppo questo non avviene, poi ho fatto numerosi video dove dentro l'autobus 81 e la mattina seguente nell'autobus 64, quindi due autobus molto importanti che attraversano il centro della città di Roma e quindi immagino saranno utilizzati anche da numerosi turisti, ebbene dentro questi autobus letteralmente pioveva, quindi dal tetto scendevano gocce di pioggia. Allora io penso che questa sia un po' la metafora dell'amministrazione, di questa amministrazione, cioè abbiamo dei cittadini che viaggiano con degli autobus dove piove dentro e ripeto non sto parlando di un autobus di periferia che poi comunque ovviamente le periferie hanno gli stessi diritti del centro storico ma sto parlando di autobus che attraversano il centro di Roma. Quindi l'immagine, adesso immaginiamo qualche turista che magari veniva da qualche paese gestito un po' meglio rispetto al nostro e si trovava nella capitale d'Italia con l'autobus dove pioveva dentro. Io ho denunciato questa cosa, ho visto che è passata un po' in sordina, io sinceramente cari colleghi mi sentivo un tantino umiliato, umiliato intanto perché se faccio un abbonamento dell'autobus pretendo che dentro quell'autobus non piova e secondo poi non è un bel biglietto da visita per una città come Roma. E poi abbiamo l'assurdo che mentre negli autobus di Atac piove, a Atac ma anche Roma Servizi per la Mobilità, Roma Metropolitane, continuano ad avere decine e decine di dirigenti a stipendi faraonici e che non si sa bene cosa facciano. Quindi dicevo Presidente, un po' la metafora di questa amministrazione, i cittadini che ormai viaggiano un po' come la terza classe del Titanic e poi vengono mantenuti i privilegi per megadirigenti e quant'altro. Pensiamo anche alla recente nomina da parte del Sindaco Marino del Presidente e amministratore delegato di Risorse per Roma che, correggetemi se sbaglio, guadagna circa 240.000 euro l'anno, insomma una cifra abbastanza significativa e poi però i cittadini si trovano in una città che praticamente non è gestita e dove ci sono dei servizi ad ogni angolo. Detto questo Presidente, io mi sono preparato uno schemino da seguire per sfruttare questi 45 minuti e illustrare un po' la situazione della città di Roma, almeno per quanto attiene le materie che seguo più da vicino nelle commissioni che sono la mobilità, l'ambiente ed il commercio, che sono un po' degli argomenti molto legati fra di loro. E quindi dicevo, per cominciare dal tema del commercio, io la invito Presidente o anche mi piacerebbe che ci fosse qualche volta il Sindaco in aula, ma capisco che ha ben altri impegni e il Sindaco magari arriva 5 minuti prima della votazione, come è successo su tanti provvedimenti, per farci dei discorsi magari anche un po' scenografici e poco più, perché trovo assurdo che se si inizia la discussione di un bilancio come quello di Roma Capitale non ci sia il Sindaco in aula. Anche queste sono delle pessime abitudini che io poi ricordo, caro Presidente, io durante la consigliatura Alemanno venivo ad assistere alle sedute di assemblea Capitolina e quando non mi facevano entrare, quando non c'era Alemanno in aula, magari mi trovo a parlare per i corridoi con qualche consigliere della loro opposizione di centro-sinistra e mi diceva, ma no, ma questo Alemanno che è cattivo, Alemanno che non fa entrare i cittadini in aula, Alemanno che non viene mai, invece adesso mi ritrovo a parti invertite che succedano le stesse identiche cose, quindi poi non ve la prendete con il Movimento 5 Stelle quando dice che destra e sinistra sono molto simili. Sicuramente su questi aspetti lo sono. Quindi io dicevo, per cogliere anche un attimino il senso di questa discussione, in quest'aula abbastanza vuota, quindi massima libertà di espressione da parte del sottoscritto, vedo pochissimi consiglieri di maggioranza che giustamente poi pensano ad altro perché ascoltare dei consiglieri di opposizione che parlano per questi 45 minuti e poi ascoltare uno dei consiglieri più giovani dell'assemblea che ancora viene scambiato per l'assistente, per qualcun altro e quindi magari ha anche, diciamo così, un'importanza relativa perché poi certe volte in quest'aula ci sono dei meccanismi dove qualcuno è più consigliere di un altro, quindi ci sono dei colleghi che magari ancora non ti guardano un po' con un po' di distanza, però noi portiamo avanti il nostro discorso, i colleghi del mio gruppo prima hanno illustrato numerose tematiche e io vado avanti. Vado avanti, cara Presidente, sottolineando un fatto, la domanda che io mi sono sempre posto è ma i sindaci, i politici, gli amministratori locali vivono la città che governano? Secondo me no, perché se il sindaco Marino si spostasse con i mezzi pubblici o anche a piedi si accorgerebbe di tutta una serie di cose che io penso sarebbero intollerabili e farebbe di tutto per sistemarle. Quindi il sindaco Marino o non vede queste cose o fa finta di nulla. Le faccio un piccolo esempio, lei sa che gli uffici dei gruppi capitolini sono a Via delle Vergine dove tra l'altro paghiamo un affitto spropositato considerando che invece il comune di Roma ha un sacco di immobili inutilizzati, meno quelli che vi siate svenduti e io arrivo qui in Campidoglio a piedi e attraverso una stradina tra Via 4 Novembre e Via dei Fori Imperiali. Ebbene questa stradina io quando la percorro, Presidente, io mi vergogno di essere un cittadino italiano e romano perché questa strada è completamente dissestata, ci sono buche praticamente ovunque, ci sono scritte su tutti i muri e rifiuti di ogni tipo lungo la strada e non entro nei dettagli di quale tipo di rifiuti, parliamo anche di escrementi probabilmente umani. Quindi io dico se questo è il modo di tenere una strada e sono contento che ci sia l'assessore all'ambiente in aula che magari raccoglie questo mio invito e magari di concerto con Ama organizzano una pulizia perché la strada che collega a Via 4 Novembre a Via dei Fori Imperiali, pieno centro storico della città di Roma, patrimonio dell'UNESCO, è tenuta non male, peggio. Anche lì io immagino il turista che è sceso dall'autobus dove pioveva dentro vuole andare a vedere i fori imperiali, percorre questa via che è distrutta e dice ma io dove sono capitato? Visto che questa città ormai può vivere solo di turismo perché tutto il resto lo state distruggendo, allora magari anche curare un pochino l'immagine e come ci presentiamo ai cittadini romani in primis che pagano le tasse e ai turisti che ovviamente sono anche una risorsa, una ricchezza da valorizzare, magari dovremmo stare un po' più attenti. Però secondo me Presidente, il Sindaco Marino tutte queste cose non le sa. Il Sindaco Marino che oggi ha dichiarato che vuole fare il Sindaco fino al 2023, caro Ignazio se questa è la tua Roma fino al 2023 io la vedo molto difficile perché se fino al 2023 vogliamo mantenere le strade in queste condizioni o faccio un altro esempio, le stazioni della metropolitana e i treni della metropolitana che sono letteralmente coperti di graffiti anche quello è un pessimo messaggio che si dà agli utenti del trasporto pubblico caro Presidente io dubito che il Sindaco Marino arrivi anche ai prossimi tre mesi, non al 2023 perché i cittadini prima o poi si arrabbieranno, perché i cittadini che pagano le tasse più alte d'Italia che puntualmente ad ogni bilancio vengono ritoccate, magari prima o poi si arrabbiano perché gli verrà la domanda, gli sorgerà spontanea ma i miei soldi delle mie tasse che fine fanno? Domanda che tutti ci stiamo ponendo e che magari anche con la vicenda di mafia capitale che già si sta tentando di tenere nascosta e di non parlarne più, magari qualche risposta può anche essere arrivata. E cara Presidente non mi si venga a dire e a rispondere al solito modo non ci sono i soldi perché ci sono tante tantissime cose che si potrebbero fare in questa città a costo zero e noi come Movimento 5 Stelle, siccome siamo quelli che dicono sempre no, lo abbiamo anche proposto con delle emozioni e delle delibere qui in aula perché noi siamo anche propositivi, noi non siamo solamente protesta e non diciamo solamente no che che se ne voglia dire. Io però Presidente in due anni nonostante il Sindaco Marino sia arrivato in Campidoglio per la sua proclamazione in bicicletta io in due anni, cara Presidente, non ho visto un metro, non un chilometro, un metro di corsia, di pista ciclabile in più. Eppure io ho fatto, ho proposto qui in aula dicevo Presidente, in due anni dicevo Presidente, in due anni io non ho visto un metro in più di pista ciclabile eppure noi come gruppo capitale del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato non una ma due emozioni le abbiamo fatte approvare due volte perché una famosa pubblicità diceva per realizzare a Roma le corsie ciclabili leggere che sono a costo zero sfrutto, mi rubo qualche minuto al mio discorso per illustrarle le corsie ciclabili leggere sono molto importanti perché non devono essere spesi soldi forse questo è il motivo per cui non si realizzano perché basta spostare verso l'interno della carreggiata le automobili parcheggiate, in quel modo si crea un percorso protetto tra marciapiede e automobili parcheggiate che sono state spostate verso l'interno si crea le automobili che sono il principale, diciamo così passatemi la metafora, nemico delle biciclette e diventano invece il miglior amico perché spostando la fila di auto parcheggiate verso l'interno della carreggiata, ovviamente dove le dimensioni della carreggiata lo consentono ma ci sono tante tante strade consolari che vi assicuro potrebbero funzionare in questo modo spostando la fila di automobili parcheggiate verso l'interno si creerebbe un percorso protetto e sicuro per le biciclette quindi spostare una fila di auto parcheggiate è un qualcosa che si fa a costo zero non stiamo parlando di scavare, non stiamo parlando delle 46 varianti della metro C stiamo parlando di spostare una fila di automobili parcheggiate ebbene però questa cosa è stata troppo difficile, è troppo difficile per il sindaco Marino forse il sindaco Marino siccome ha detto che governerà questa città fino al 2023 si sta prendendo molto tempo anche per realizzare delle opere semplici ma lo sa Presidente perché le ciclabili leggere sono molto importanti perché praticamente si andrebbe a sottrarre quella che di fatto è una corsia occupata molto spesso abusivamente dalle automobili in doppia fila quindi in questo modo con le ciclabili leggere noi risolveremo il problema delle biciclette e il problema delle automobili in doppia fila però evidentemente questo non si vuole fare stessa cosa per le corsie preferenziali lei Presidente saprà meglio di me che ATAC vedo qui la Presidente della Commissione Mobilità Cesaretti con la quale abbiamo fatto molte e numerose commissioni sul tema ATAC oltre ad avere un debito spropositato mi sembra di un miliardo e mezzo di euro ha anche la velocità commerciale più bassa d'Europa questo vuol dire che gli autobus dell'ATAC vanno pianissimo vanno a 10, 12, 13 km orari che è anche uno dei problemi principali per cui ATAC perde un sacco di soldi perché se l'autobus va piano effettua meno corse quindi mi servono più autisti consuma più carburante perché tutti noi sappiamo che più piano vado con il mio mezzo e più consumo senza contare anche il discorso ambientale perché se consumo di più inquino anche di più e aspetto anche importante gli autisti ovviamente se devono guidare nel traffico ovviamente il carico di stress aumenta notevolmente quindi cara Presidente io in tutte le occasioni abbiamo presentato anche una delibera che spero sia discussa qui in aula il primo possibile abbiamo detto caro sindaco, caro assessore perché non aumentiamo le corsie preferenziali così che gli autobus hanno uno spazio riservato sulle strade e possono andare più veloce questo significa se l'autobus va più veloce che io quando scendo qui sotto e aspetto l'85, l'87 se ci fosse una rete di corsie preferenziali capillari quanto meno nel centro storico ATAC con gli stessi autobus rotti e con gli stessi autisti che lavorano in condizioni difficilissime perché guidare un autobus che ha 15 anni è un'impresa che io non mi sento neanche di immaginare se ci fossero le corsie preferenziali io invece di aspettare 20 minuti l'85 lo aspetterei 10 minuti e soprattutto l'85 per portarmi a San Giovanni dove io poi riprendo la metro alle 20 di sera quindi neanche in orario di punta non impiega mezz'ora ma impiega 10 minuti e quindi in questo modo il trasporto pubblico si potrebbe rendere competitivo si potrebbe aumentare l'appeal del trasporto pubblico e incentivare anche nuovi cittadini che oggi non lo utilizzano perché con il nostro capogruppo e allora candidato sindaco Marcello De Vito in campagna elettorale lo diciamo sempre il 75% quasi l'80% degli spostamenti a Roma avviene con il mezzo privato ma se io il trasporto pubblico lo rendo attraente come avviene in tutte le città d'Europa e non solo allora può essere che qualcuno lascia l'automobile a casa e prende il mezzo pubblico e vi sto fornendo tutti degli spunti a costo zero proprio capisco che il sistema che ci ha governato e che ci governa ancora invece è attratto più dalla grande opera che non si compirà mai e che sarà per sempre un bancomat delle imprese di quelle solite imprese perché se poi vediamo la città dello sport la metro C la stanno realizzando perché l'hanno realizzata a un parolone sempre i soliti soggetti perché è chiaro che se io faccio una corsia preferenziale una pista ciclabile la grande impresa di turno non verrà mai a prendersi quell'appalto perché non gli converrà però converrebbe alle tante piccole e medie imprese e agli artigiani della nostra città che oggi soffrono enormemente allora caro presidente cari assessori caro sindaco quando mai verrai magari cari colleghi pensavo potremmo mandare una bella mail a sindaco chiocciolacomune.ruma.it con i video dei nostri interventi così il sindaco Marino quando vuole sul tablet a casa quando vuole si rivede i nostri interventi e poi magari ci dice cosa ne pensa dicevo caro presidente qui questa amministrazione si deve prendere delle responsabilità e decidere quali sono le priorità voglio continuare con questo vortice delle grandi opere che non portano ricchezza a nessuno la mia risposta è sì perché avete votato una delibera sullo stadio della Roma la consigliera Zuni sicuramente lo ricorderà che chiaramente va in tutt'altra direzione rispetto a quello che sto dicendo adesso o vogliamo dare veramente ossigeno alle tante piccole e medie imprese che chiudono realizzando delle opere diffuse capillari sul territorio di manutenzione ordinaria io presidente e sono contento di far parte della commissione commercio vedo qui il presidente corsetti che è una commissione molto interessante io vado a parlare con i tanti artigiani le botteghe le piccole imprese nella nostra città loro chiedono solamente di lavorare non è che chiedono chissà che chiedono di lavorare io con molti di loro abbiamo pensato anche a delle proposte non so faccio un esempio la scuola cade a pezzi il comune non ha i soldi per ristrutturarla tanto per cambiare perché deve pagare il mutuo per il debito di oltre 20 miliardi di euro contratto dall'era Veltroni ok facciamo lavorare le imprese gli facciamo ristrutturare una scuola e poi gli diamo uno sconto magari sulle tasse che andranno a pagare si potrebbe fare ad esempio e con il presidente corsetti ne abbiamo parlato più volte che magari i negozi di una via si mettono insieme anche in forma associativa contribuiscono al decoro di quella via magari pulendo un po' le strade ripulendo i muri e in cambio noi gli dimezziamo non gli facciamo pagare la tariffa rifiuti sarebbe molto interessante ci guadagneremmo tutti così la tariffa rifiuti invece che darla ad Ama la quale anche ama un debito di più di un miliardo di euro e ci sono le banche che premono per rientrare di questo debito ricordiamoci ad esempio l'operazione del centro carni io la delibera del centro carni ce l'ho scolpita nella mia memoria perché inizia con l'elenco delle banche e creditrici di Ama un po' come dire guardate che qui il potere ce l'abbiamo noi o fate quello che diciamo noi o salta tutto allora se vogliamo un po' ripensare questa città magari sarebbe ora di cominciare a far saltare qualcosa metaforicamente parlando ovviamente ci mancherebbe quindi dicevo ci guadagnerebbero tutti i commercianti avrebbero una via più pulita perché a me adesso i commercianti dicono Enrico i clienti hanno paura di entrare nel mio negozio se vedono buche sporcizia degrado e chi più ne ha più ne metta noi a quel commerciante diciamo ok sistemala tu la via così tu ci guadagni perché la via è più pulita hai più clienti e quindi a me comune di Roma quei soldi che non ti ho fatto pagare per la tariffa rifiuti in ogni modo mi rientrano perché se quell'attività ha più clienti e lavora meglio sono più tasse che indirettamente entreranno uguali per il comune di Roma e allo stesso tempo però quel commerciante che si ritrova in una fase difficile se noi gli scontiamo un po' di tariffa rifiuti magari può stare aperto un anno in più due anni in più dieci anni in più magari può assumere un'altra persona e creare lavoro in questo modo non è che serva essere non è che serva avere dieci lauree in economia per fare un ragionamento del genere è un ragionamento di buon senso che chiunque vuole fare tranne questa amministrazione a quanto sembra perché il problema è che quando le idee sono a costo zero noi abbiamo visto il sistema mafia capitale e i soldi che girano in appalti in affidamenti quasi sempre diretti è chiaro che lo sconto sulla Tari io non è che lo posso barattare con qualcosa e quindi in questo modo crolla anche un sistema che ha divorato questa città e questa amministrazione però ripeto Presidente le proposte ci sono ne sto facendo tantissime in 20 minuti di intervento sul bilancio io sono tra l'altro un consigliere di opposizione del Movimento 5 Stelle quindi in esperto che strilla che urla che è telecomandato da Beppe Grillo in più diciamo ancora 25 anni quindi ne capisco ancora meno di tanti altri però sono un sacco di idee interessanti che puntualmente cadono nel vuoto di un'aula vuota che si accinge a votare un bilancio ha un altro tema che mi piace sottolineare anche lì una soluzione a costo zero che ancora dopo due anni non si vede nonostante il sindaco Marino si era presentato qui in Campidoglio in bicicletta è il bike sharing sto benedetto bike sharing anche questa soluzione a costo zero perché viene finanziato in quasi tutte le città d'Europa con i proventi della pubblicità di questo bike sharing neanche l'ombra io quello che dico almeno rimuoviamo le stazioni del vecchio bike sharing che sono state depredate delle biciclette ci si parcheggiano i motorini anche lì noi immaginiamo un turista che viene non dico dalla Svezia dalla Spagna un paese come il nostro dove c'è la crisi dove si lavora poco perché fa caldo e quant'altro ebbene noi immaginiamo un turista che vede nelle stazioni con scritto bike sharing il motorino parcheggiato dice io qua dove sono capitato però ripeto io non vedo poca attenzione ma in generale non ho dei presenti ci mancherebbe su temi che sono fondamentali io ripeto ho invitato più volte il sindaco facciamoci una passeggiata per il centro storico senza scorta senza vigili perché a me una volta è capitato di vedere il sindaco Marino in bicicletta e poi dietro aveva tre motorini dei vigili urbani e una macchina dei vigili urbani quello non è andare in bicicletta caro sindaco facciamoci una passeggiata vera io sono sicuro che il sindaco che è una persona che immagina una certa sensibilità si vergognerà di essere un cittadino romano e voglio sperare che intervenga quanto prima e ripeto sto parlando dei problemi del centro storico non voglio neanche entrare o più avanti lo farò nei problemi delle periferie alle quali io appartengo con molto orgoglio lì proprio tutta una serie di di servizi ormai si vedono col binocolo pensiamo alla manutenzione stradale tanto per fare un esempio sono delle vie che io penso siano state dimenticate siano state proprio cancellate dagli elenchi di scariche abusive in ogni dove anche qui cara presidente sono contento che ci sia l'assessore all'ambiente in aula che anzi ringrazio anche prima per la disponibilità mostrata con i comitati io faccio l'esempio del mio municipio il sesto che ha 250.000 abitanti e non ha un'isola ecologica 250.000 abitanti io penso sia quasi una delle prime dieci città d'Italia voi immaginatevi Firenze Bologna o qualche altra città Genova che non ha neanche un'isola ecologica e tra l'altro è un municipio molto esteso perché va da Tivoli a quasi diciamo a cento celle allora anche lì io non è che sto giustificando le tante discariche abusive che sorgono ci mancherebbe però neanche il cittadino è così incentivato è vero che ci sono le raccolte straordinarie di ama e quant'altro ma che cosa ci vuole a fare uno due tre centri di raccolta di ama che cosa ci vuole poi se vogliamo fare un passetto un po' più lungo e rischiare qualcosa che ci vuole a fare un centro di riuso e riparazione a Londra io sono stato in maniera stabile diciamo un pochino a Londra nel 2012 che ormai è un'era geologica per come va oggi il mondo già lì proliferava di centri di riuso e di riparazione che hanno anche creato lavoro perché la crisi è anche un'opportunità quindi magari quello che io fino all'altro ieri buttavo senza pensarci due volte magari adesso ci penso e magari metto in moto ecco nei tanti immobili di Roma Capitale invece di affittarli a 10 euro al mese e magari qualche garage si potrebbe adibire al centro di riuso e riparazione recuperando anche una certa manualità che va oggi sparendo e consentendo a tanti cittadini che magari si trovano in un momento difficile o anche pensiamo alla enorme disoccupazione che c'è avere qualcosa da fare perché poi ricordiamoci che i problemi soprattutto nelle periferie nascono anche perché molto spesso si hanno poche opportunità se io non ho una biblioteca se io non ho un cinema se io non ho un luogo di aggregazione una piazza io vi invito a guardare i quartieri che sono sorti anche qui durante l'era Veltroni guarda caso Veltroni buona parte dei casini a Roma li ha combinati lui tanti quartieri che sono sorti nella periferia est di Roma non hanno neanche una piazza anche per andare a comprare il giornale o il latte devi prendere l'automobile perché poi al centro di questi mega quartieri c'è il solito centro commerciale che ovviamente distrugge e polverizza invece quel tessuto produttivo tipicamente italiano tipicamente Roma di piccoli imprenditori di artigiani che hanno e conservano ancora con enorme fatica una certa sapienza e tradizione invece questo centro commerciale che risucchia tutti e che tra l'altro fa guadagnare anche poche persone perché poi anche lì spesso ho incontrato dei lavoratori dei centri commerciali piuttosto che dei piccoli imprenditori che con dei meccanismi molto particolari praticamente i benefici sono veramente per pochi detto questo proseguo un po' ah vedo anche leggere le mail quasi quasi parlo un'ora e mezza anziché 45 minuti tanto vedo la Presidente è d'accordo silenzio assenso quindi proseguirò per un'ora e trenta e dicevo prima di arrivare alle mail dei cittadini cara Presidente quindi io parlo per un'ora e trenta dicevo un altro aspetto importante sono i mercati regionali anche questi che in commissione col Presidente Corsetti e la Vice Presidente della Commissione Commercio in Mabbattaglia abbiamo seguito molto perché non rilanciare i mercati regionali anche con delle idee innovativi con delle coperture fotovoltaiche permettere magari di farne anche dei centri per l'artigianato con degli spazi polivalenti utilizzarli anche il sabato della domenica per delle mostre per dei percorsi culturali o magari quella frutteria che la mattina ti vende la frutta il pomeriggio o la sera dopo una dura giornata di consiglio comunale andare lì e prendersi un bel frullato anche queste tante piccole idee che potrebbero essere raccolte dicevo visto che io indosso un sacco della spazzatura potremmo parlare anche un pochino di ambiente caro Presidente oggi appunto sono venuti molti comitati molti cittadini che chiedono lumi e chiedono spiegazioni sull'ecodistretto di Roccacencia lumi che almeno ad un umile consigliere comunale di opposizione ancora non sono stati dati perché qualche settimana fa in commissione ambiente Ama ha presentato una relazione molto generica dove tra l'altro neanche le pagine corrispondevano perché su una pagina si parlava di biodigestore di Roccacencia e sull'altra pagina quando c'era lo schema dell'ecodistretto di Roccacencia non era previsto il biodigestore visto anche tra l'altro che se non sbaglio questa relazione è stata fatta da una società esterna vi chiedo anche a quali costi noi abbiamo pagato anche una società esterna per fare una relazione che è incongruente al suo interno quindi questo dico io quando dico che il sindaco Marino sta mantenendo lo stesso status quo dei suoi predecessori che che ne dica lui cara presidente parlo proprio di questo se Ama mi porta a una relazione che tra l'altro ha fatto una ditta esterna immagino pagando voglio sperare magari pagando e questa relazione è incongruente al suo interno o questa relazione classifica i livelli di pulizia delle strade e mi dice che in centro storico il livello di pulizia è 7 su 10 cara presidente invito ancora una volta gli illustri rappresentanti della maggioranza a farci una bella passeggiata qui sotto sfido chiunque a dare 7 alla pulizia delle strade e anche qui ripeto non voglio parlare delle condizioni della periferia che sono da meno 7 non da 0 quindi parlando di ambiente anche qui un altro aspetto mentre si parla dell'ecodistretto di Roccacencia magari dimentichiamo gli impianti che attualmente Ama ha ho l'unico impianto io qualche settimana fa ho visitato l'impianto di selezione del multimateriale di Ama a Laurentina e ho scoperto dopo un difficoltoso accesso agli atti che questo impianto viaggia a un decimo delle sue potenzialità sul sito di Ama viene pubblicizzato come un impianto che può trattare 70 tonnellate al giorno il presidente di Ama Fortini rispondendo al mio accesso agli atti mi comunicava che ne lavorava 7-8 di tonnellate al giorno quindi anche qui magari andare a capire come mai questi impianti lavorino con queste percentuali così basse prima di fare voli pindarici e parlare di agodistretti sarebbe anche interessante o ancora ho ricevuto qualche giorno fa una mail riguardo Ama in cui mi è stato sollecitato io poi farò le verifiche del caso mi è stato segnalato mi hanno detto guarda Enrico che Ama ha fatto la nuova magrostruttura ma sembra fatta su indicazione di Pansironi che sappiamo tutti chi è io ovviamente adesso questa segnalazione la dovrò verificare spero di sbagliarmi ma se fosse così sarebbe molto grave ripeto ancora una volta per un'amministrazione che doveva cambiare tutto rimanendo e poi ricordiamolo ancora una volta che attualmente Ama porta tutti i rifiuti fuori regione perché adesso noi ci stiamo affrettando a parlare di questo discorso gli ecodistretti ma per decenni Ama non ha investito in impianti anche questo è un dato interessante io vi invito a fare una riflessione Ama ha un miliardo di euro di debito la mia domanda che sorge spontanea e adesso in forza di questo miliardo di debito di Ama si vogliono fare si vogliono prendere delle decisioni che sicuramente saranno a sfavore dei cittadini la mia domanda è come si fa a fare un miliardo di debito con Ama mi spiego meglio chiunque di noi produce rifiuti e chiunque di noi li conferisce ad Ama non è che stiamo parlando di una compagnia telefonica che diciamo ha un debito perché io passo dalla compagnia X alla compagnia Y e è normale che magari l'altra fallisce no Ama opera in regime di monopolio Ama chiude ogni anno il suo piano finanziario che tra l'altro quest'anno non vedo qui in aula non so come mai tirando una bella linea e dice quanto ho speso questo lo riscarico sulla tariffa rifiuti dei poveri cittadini che infatti in questo modo hanno visto ogni anno lievitare la tariffa rifiuti quindi la domanda è come si fa a fare un debito di un miliardo di euro con Ama è un qualcosa per cui ci si deve impegnare e ancora una volta io lo dico sempre anche se dovessi risultare antipatico a me piacerebbe che prima o poi in questo paese chi ha fatto 20 miliardi di euro di debito comunale chi ha fatto un miliardo di euro di debito per ogni partecipata di questa amministrazione magari prima o poi possa pagare anche solo dal punto di vista morale invece no in questo paese si spolpano gli enti locali e i cittadini e poi magari si va anche in giro a scrivere libri ma questa è un'altra storia restando sul tema ambiente cara presidente cara assessore un altro nodo molto importante sono i punti verde qualità per il quale ricordiamolo il comune di Roma Roma capitale è esposta per diverse centinaia di milioni di euro visto che parliamo di bilancio mi sembra un tema abbastanza interessante io ad esempio tra le mille cose ho scoperto insieme a un comitato di quartiere che in un punto verde qualità è sorto un casino noi sappiamo tutti perché i punti verde qualità nascevano e lo scopo non era certo quello di far arricchire le lobby del gioco d'azzardo poi anche in tema di ambiente io in queste ultime settimane ho scambiato un notevole carteggio con la fondazione Bioparco perché leggendo il bilancio 2013 lessi che la fondazione Bioparco spendeva 11.000 euro l'anno per noleggiare una fotocopiatrice che fanno più o meno 900 euro al mese cioè quanto quasi un monolocale da queste parti in questo carteggio la fondazione Bioparco mi ha spiegato che è normale perché fanno molte fotocopie e quant'altro anche su questa vicenda mi piacerebbe vederci chiaro perché ripeto io girando un po' su internet ho visto dei preventivi per i noleggi delle fotocopiatrici che arrivavano al massimo a 100 euro al mese 900 mi sembra un po' tantino anche qui magari si potrebbe avere qualche informazione in più andiamo anche al tema della mobilità sicuramente tema molto attuale in questo periodo mi dicevo io avevo iniziato questo discorso sottolineando il fatto cari colleghi che dentro gli autobus dell'Atac pioveva cosa normale perché se Atac ha il parco vetture più vecchio d'Italia più di 12 anni di età media è normale che se piove dentro magari qualcosina andrebbe fatto anche qui mi si dirà non ci sono i soldi allora visto che non ci sono i soldi il prossimo discorso sul bilancio invece che col sacco della spazzatura lo facciamo con tutte monete finte messe magari qui così le tiriamo fuori e diciamo questa è una soluzione a costo zero è uno spreco che potreste eliminare e quindi trovare i soldi che ci sono da destinare alla collettività si fa un gran parlare di società da chiudere anche in questo bilancio purtroppo dico purtroppo perché si vanno a chiudere delle società delle aziende che potrebbero fare utili se gestite bene o alcune già lo fanno prendiamo l'esempio di Farmacap o di Adir con le farmacie io non ho mai visto un farmacista cadere in miseria non si capisce invece perché il colono di Roma debba farlo assicurazione di Roma anche lo abbiamo illustrato più volte lo ha fatto il collega Daniele Frongia con la sua commissione speciale spending review che mi sembra mi sento di dire una delle poche commissioni speciali probabilmente insieme alla commissione Smart City che lavora in maniera attenta e puntuale e per questo si vuole chiudere chiaramente giustamente perché non fa una piega dicevo andiamo a liquidare tutta una serie di aziende che potrebbero fare utile ho ricordo ancora scolpito nell'ultimo bilancio il 2014 Trambus Open anche lì un'azienda che può e deve fare utili la invito a concludere si arrivo Presidente comunque avevo detto che parlavo un'ora e mezza e lei mi aveva consentito scherzo diciamo nello scorso bilancio nel maxi emendamento finale si è andata a liquidare Trambus Open che è una gallina dalle uova d'oro perché noi adesso a Roma il 10 marzo abbiamo 20 gradi e non piove da due settimane e quindi era una risorsa fondamentale anzi era anche un modo invece di tartassare i turisti con delle odiose tasse di soggiorno che poi non paga nessuno ma se il turista mi va sull'autobus scoperto e paga il biglietto 10-12 euro e io con quei soldi vado a compensare magari migliorando e potenziando la metropolitana ho ottenuto lo stesso risultato dell'odiosa tasse di soggiorno che non paga nessuno poi ma in maniera più profittevole e creando delle opportunità di lavoro invece voi nel 2014 avete liquidato anche Trambussopera quindi dicevo andate a liquidare delle aziende che potrebbero fare utili anche con questo meccanismo mi dispiace oggi pomeriggio mi sto trasformando da giurista in economista però è importante spaziare da un campo della sapienza a un altro e invece non chiudete quelle aziende partecipate di Roma Capitale che lasciatemi lo dire non servono a nulla mi piace fare l'esempio di Roma Metropolitane Roma Metropolitane ha 11 dirigenti tutti tra i 120 130 150 170 mila euro l'anno dal 2004 ad oggi Roma Metropolitane altra bellissima creazione che ci ha lasciato in eredità l'ex sindaco Veltroni che cosa ha controllato a me viene da dire nulla perché se i tempi di realizzazione della Metro C sono raddoppiati insieme ai costi e Roma Metropolitane che è un'azienda che non si capisce bene poi perché sia nata e perché il suo lavoro non poteva farlo il Dipartimento Trasporti di Roma Capitale però Roma Metropolitane viene mantenuta in piedi anche qui se è una metropolitana se è la stazione San Giovanni che originariamente la cui consegna era prevista nel 2011 e invece avverrà forse nel 2016 se nel 2006 fu stipulato il contratto con il consorzio Metro C nel 2007 quando ancora non era stata posta neanche la prima pietra già si faceva la prima domanda di arbitrato se ci sono state 46 varianti se le penali che adesso dovrà pagare il consorzio Metro C le dovrà valutare lo stesso consorzio quindi il controllore nominato dal controllato la domanda è cara assessore al bilancio Roma Metropolitane che ce la teniamo a fare e concludo allora mi dispiace perché c'erano un sacco di altri argomenti di cui avrei voluto parlare ma sicuramente ne avremo modo cara assessore al bilancio dicevo Roma Metropolitane invece che è uno spreco quella la manteniamo e invece chiudiamo e liquidiamo delle aziende che potrebbero creare valore per la nostra città quindi con questa ultima consiglio spassionato da cittadino che vi do al quale interessa poi il bene comune di questa città perché fare il contrario di opposizione a questa amministrazione sarebbe anche troppo facile a noi ci piace essere costruttivi e quindi speriamo che queste indicazioni siano raccolte o quantomeno valutate perché altrimenti diciamocelo chiaramente il sindaco Marino e l'assessore Scozzese sono dei liquidatori di una città fallita però almeno diciamocelo chiaramente evitiamo di prenderci in giro evitiamo di prendere in giro i cittadini che ancora quei pochi che riescono dopo un percorso ad ostacoli ad assistere a questa assemblea non li illudiamo che in quest'aula si prendano delle decisioni e ci diciamo le cose chiaramente grazie grazie a tutti grazie a tutti